Tanto spazio sulla destra per Quadrado, sta arrivando a sostegno anche Eliksteiner, cross dentro, di testa! Che dirà! Secondo gol alla Dacia Arena per lui in carriera, la Juve è avanti al ventesimo. E' dal lato di Ali Adnan che arrivano i problemi principali perché Quadrado sul fronte opposto ha tantissimo spazio, qui scoperta l'Udinese, c'era anche Iguain pronta a ricevere l'inserimento da parte del centrocampista tedesco che fa 2-1 per Chedira.